signori buongiorno e benvenuti sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale questa settimana andiamo a parlare di uno degli argomenti che ho personalmente visto causare delle discussioni furiose tra i giocatori di ruolo e non sto parlando di flame su qualche forum sarà interessante vedere la sezione dei commenti di questo video fatta questa premessa torniamo a noi il compito fondamentale di un master indipendentemente da quale sistema sta utilizzando o quale sia la quest che sta portando al tavolo è quello di far sentire i suoi giocatori partecipi e coinvolti nella narrazione a nessuno piace giocare una quest in cui è semplicemente uno spettatore di quello che avviene i giocatori vogliono che i loro personaggi siano coinvolti che prendano decisioni importanti e che siano i protagonisti della storia al contempo però nessuno vuole giocare una storia che sia banale e noiosa i giocatori vogliono che la storia sia emozionante abbia colpi di scena meriti di essere raccontata anche a danni di distanza quando parlano con altri giocatori di ruolo creare una buona storia però richiede tempo e richiede riflessione e in base al sistema che state utilizzando potrebbe anche richiedere che creiate del materiale apposta e questo richiede ancora più tempo fin tanto che la storia procede tutto come era stato previsto niente di male voi avete preparato la storia sarà interessante i giocatori saranno contenti cosa succede però quando la storia non sta procedendo come era stato previsto i giocatori fanno qualcosa che non vi aspettavate o voi avete sbagliato qualcosa la storia smetterebbe di essere interessante e voi sareste nei casini come potete risolvere questa situazione beh innanzitutto ricordando che state tutti facendo finta se vi è mai capitato di vedere lo spettacolo di un prestigiatore probabilmente lo avete visto fare delle cose incredibili far apparire le cose al nulla farle sparire e tagliare a metà le persone leggervi nella mente indovinare la carta cui state pensando ora non voglio rovinarvi la sorpresa ma in realtà il prestigiatore non ha poteri magici sta solo facendo finta di averli utilizzando trucchi molto complessi anche se a noi stessi che siamo il pubblico e lo spettatore piace pensare che non sia così il gioco di ruolo non è più di tanto differente tutti al tavolo stanno facendo finta di essere degli eroi dei pirati degli esploratori spaziali o quello che è impegnati a vivere meravigliose avventure in luoghi interessanti ma in realtà nulla di tutto questo è vero banale direte voi sono tutte cose ovvie sì effettivamente lo sono solo che noi giocatori di ruolo a volte tendiamo a dimenticarcelo soprattutto quando stiamo giocando un personaggio a cui teniamo particolarmente che ci coinvolge direttamente che ci appassiona o magari quando stiamo masterando un'ambientazione che adoriamo magari un'ambientazione che abbiamo scritto noi stessi con gli altri membri del party ci abbiamo passato settimane a lavorarla elaborarla a volte diventa difficile svegliarsi dall'illusione questo da una parte è una cosa positiva è esattamente il tipo di sensazioni che il master vuole causare nei suoi giocatori se i giocatori si sentono coinvolti appassionati alla storia gioiranno veramente di aver salvato il regno e saranno veramente affranti dalla morte del png loro alleato il master però non deve dimenticare che tutto quello che lui fa è funzionale alla storia il master deve rendere il mondo vivo e credibile all'interno della mente dei giocatori per fargli mantenere la sospensione dell'incredulità ma nella realtà l'intera storia non è nient'altro più di questo il master non ha poteri magici è solo bravo a far finta di averli tutto questo lunghissimo preambolo logorroico è per evitare incomprensioni sull'argomento di cui tratteremo questa settimana cioè proprio l'illusionismo del game master quando si parla di illusionismo del game master non ci si riferisce a una tecnica in particolare ma è più una filosofia di masteraggio un insieme di sottotecniche di trucchi di comportamenti che il master utilizza durante il gioco per deviare alcune scelte favorirne altre ricostruire la storia in base alle scelte che sono state fatte e fondamentalmente continuare ad adattare la storia in modo che continui ad essere interessante per i giocatori alcune di queste tecniche particolari le abbiamo già viste il mercante di informazioni oltre al quantistico per esempio altre sicuramente le vedremo poi in video successivi e altre sono proprio dei trucchetti che non meritano un video a sé stante però magari stavo pensando di organizzare una specie di video raccoglitore in cui metto insieme quelle che almeno io uso più spesso tutte queste tutte le tecniche di illusionismo mettiamola così però fanno riferimento a un punto in comune una logica in comune che è tipica del gioco di ruolo che viene chiamata la black curtain o il sipario nero se volete dirlo in italiano il sipario nero sarebbe la gap di informazioni che c'è tra il master e i giocatori il master che ha preparato la storia ha un'idea di quello che succede nella storia quali sono i suoi elementi fondamentali probabilmente sa già anche qual è la struttura degli atti e avrà anche un railroad delle parti della storia che non possono assolutamente essere cambiate i giocatori dall'altra parte del sipario invece della storia sanno solo quello che gli è stato detto loro fino a quel preciso momento quando i giocatori aprono una porta e il master gli dice che dietro a quella porta trovano un troll i giocatori non possono sapere se quello sia un troll quantistico che avrebbero trovato indipendentemente se sia un mostro errante che il master ha generato da una tabella di mostri casuali se era un incontro prefissato che il master sapeva già benissimo che in quella stanza c'era un troll e nell'altra stanza no e dal loro punto di vista comunque tutto questo è indifferente quello che sanno loro è che hanno aperto una porta e dietro quella porta hanno trovato un troll per mantenere il parallelo con il prestigiatore il master ha estratto un troll dal suo cilindro i giocatori sanno che c'è dietro un trucco ma non sanno qual è durante il corso della quest magari anche proprio durante il masteraggio di una stessa sessione il master può continuare a effettuare correzioni e cambiamenti alla storia sempre con l'intento di mantenerla viva nella testa dei suoi giocatori e mantenere in generale la sospensione dell'incadulità l'illusione alla fine sta proprio in questo fin tanto che la storia va avanti i personaggi sono interessanti i giocatori si sentono i protagonisti della storia e sentono di avere il potere di influenzare il mondo intorno a loro tutto procede bene anche se nella realtà dietro il sipario c'è il master che sta lavorando freneticamente per tenere tutto assieme con scotch e corda in linea teorica tutto quello che fa il master potrebbe essere considerato illusionismo dopo tutto come abbiamo detto all'inizio siamo tutti intorno al tavolo per fare finta di il compito del master è proprio quello di aiutare i giocatori nel loro fare finta e far credere ai giocatori che stiano succedendo delle cose che in realtà tutti sanno benissimo che non stanno succedendo nello specifico però quando si parla di illusionismo del game master in maniera tecnica si va a fare riferimento a degli specifici momenti durante una sessione o durante una quest in in cui ai giocatori vengono presentati dei fatti o delle situazioni in maniera diversa da quello che in realtà sta succedendo dietro il sipario del master i motivi per cui il master deve intervenire con l'illusionismo sono i più disparati probabilmente quello più banale che i giocatori fanno qualcosa di totalmente inaspettato e il master deve riarrangiare gli eventi che aveva previsto per la quest per adattarsi alla nuova situazione oppure il master al contrario potrebbe presentare la possibilità ai giocatori di fare qualcosa inaspettato quando in realtà non è possibile abbiamo visto nel video della collana di perle la situazione in cui i giocatori devono scegliere se allearsi con il marinaio con i pirati però come abbiamo visto nel video sul reskin questa scelta in realtà ai fini della trama è irrilevante qualunque cosa scelgano i giocatori gli eventi continueranno a essere quelli che hanno stati stabiliti all'inizio si può verificare anche la situazione contraria in cui i giocatori prendono una scelta che non è significativa ma il master cambia le cose in modo da renderla importante per gratificare i giocatori uno dei membri del party ha preso una nuova arma per il suo personaggio il master farà in modo che in uno degli incontri successivi i giocatori incontrino un mostro particolarmente vulnerabile a quella nuova arma in modo che il giocatore si senta galvanizzato e sia felice del suo nuovo acquisto anche se originalmente quel mostro non era affatto presente nella storia il master potrebbe semplicemente rendersi conto all'improvviso di aver fatto un errore quando stava preparando la quest che lui si aspettava cose che in realtà non sono successe magari proprio un errore materiale si aspettava che una regola funzionasse in maniera diversa da quella che poi si è accorto funzionare durante la quest a quel punto però se interrompesse la quest dicendo scusate ragazzi ho fatto un errore datemi un attimo e poi ricominciamo farebbe saltare del tutto la sospensione dell'incredibilità dei giocatori rovinando l'atmosfera a quel punto il master butterà in scena qualcosa magari per cercare di arrivare fino alla fine della sessione poi avere una settimana o un tempo tra una sessione e l'altra per riorganizzarsi o comunque farà in modo che i giocatori pensino che la storia sta andando avanti perfettamente senza problemi mentre lui sta di nuovo freneticamente cercando di aggiustare le cose in corsa diciamo che per questo video è tutto come sempre mi sa di aver sforato ogni limite possibile di decenza ma non fa niente diciamo che l'argomento era importante e meritava di essere trattato per bene adesso voglio provare a vedere se riesco a fare un video in cui metto insieme un po di tecniche di illusionismo spiccio ho già in mente qualcosa adesso non so dirvi quanto lo farò uscire magari tra un paio di settimane comunque fino ad allora mi piacerebbe sapere da voi cosa ne pensate dell'illusionismo se lo utilizzate non lo utilizzate quando lo utilizzate se avete voi delle vostre tecniche particolari fatemelo sapere nella sezione dei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master cae noi ci vediamo nel prossimo video